ci presenta la partita il nostro partner da panetteria da Piero, Mari, Walter e Cristian il corso garimaggio 118 Sanremo i segreti del pane inoltre 35 anni di esperienza e ora qua, l'ho superato prima no, non c'è il tuo perché allora, non c'è il tuo perché 2 x 2 2 x 2 2 x 2 3 x 2 3 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 3 1 x 2 1 x 2 2 x 3 3 x 3 que bella idea ma che bello oh bello come si come si come si come si come si ahia 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 oh eccola eccola ma cosa fa dai 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 stalla la juve ciao fortunati Grazie a tutti. Gianni, faccio... Non è che la pariggiamo questa partita? Unico Siki, bravo Unico, dai! Unico Siki, bravo Unico, dai!